Buongiorno, molto piacere. Visita del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini a Cerchio per incontrare i 45 bambini ucraini, ospiti del centro di accoglienza del piccolo borgo abruzzese. Un segnale concreto da parte del Governo nei confronti di una piccola comunità che è riuscita in una grande impresa umanitaria che sta suscitando ammirazione in tutto il territorio. Per testimoniare la vicinanza e soprattutto la gratitudine del Governo nei confronti di questa comunità, del Comune di Cerchio, del suo sindaco, ma anche di questa regione, che rappresenta un po' il simbolo di quello che l'Italia sta facendo per accogliere questi profughi che scappano da una guerra terribile. Purtroppo ci sono moltissimi bambini coinvolti e quindi proprio questa mattina abbiamo al Ministero fatto un incontro con gli enti locali, dalle regioni alle province, ai comuni, ma anche con il Direttore Curcio, con i Ministri della Salute, degli interni, della scuola per creare le condizioni di un'accoglienza migliore possibile per queste persone, per affrontare il tema drammatico dei minori non accompagnati, il tema non solo dell'accoglienza ma anche dell'integrazione a scuola e il tema anche dell'assistenza sanitaria, quindi il tema delle vaccinazioni, soprattutto per i bambini. Quindi il Governo si sta muovendo in assoluta collaborazione con gli enti locali per rendere questo momento non facile il meno traumatico possibile. La visita del Ministro è stata l'occasione per chiedere al Governo un aiuto sostanziale per organizzare in modo più funzionale la struttura che accoglie i bambini e garantire loro una dignitosa permanenza in Abruzzo. Sicuramente è una comunità che sta dando una grande prova di solidarietà, di generosità. Io voglio ringraziare la Croce Rossa, gli Alpini, le associazioni di volontariato, il terzo settore. C'è uno spontaneismo davvero incomiabile. Quello che proviamo a fare con i sindaci e con gli amministratori è mettere un po' di ordine dentro questa generosità che però fa bene al cuore ed è un orgoglio per l'Italia. Sicuramente è una vista importante del Ministro Gioelmini che dimostra la sensibilità e la vicinanza del Governo a questo territorio che ha avuto questo grande gesto di solidarietà nei confronti di minori provenienti dall'Ucraina e quindi sicuramente è un obbligo morale accoglierli per garantire i diritti costituzionalmente garantiti. Anche come Regione stiamo facendo tanto, mettendo in campo una serie di misure per cercare di fronteggiare questa emergenza e attenuare il trauma di questi minori che stanno arrivando. È una visita di Governo, la massima autorità di Governo, cioè un Ministro che viene a un piccolo paese dell'Abruzzo, che ha il cuore grande come la Marsica e come tutta l'Abruzzo, cioè che ospita questi bambini ucraini, che li ospita nel miglior modo possibile e che si vuole mettere a disposizione per dare loro la possibilità per il futuro. Speriamo che possa tornare un sorriso a tutti questi bambini e alle famiglie che noi accogliamo.